Io mi occupo di disturbi sessuali nell'arco della mia formazione, mi sono specializzata in questo e ho fatto quello che era il corso di perfezionamento in sessuologia che dura due anni all'interno della scuola, questo l'ho fatto e nel fare questo corso, vi racconto un po' la mia storia, mi sono trovata ad avere a che fare con le coppie, cosa che io non ero abituata lavorando con il singolo e quindi che succede? Che all'inizio avevo un po' di difficoltà nella gestione della coppia perché essendo abituata a lavorare col singolo, dico adesso qua ho due persone, ho due problemi, devo fare due interventi, quindi quello che poi ho capito, ho imparato nel corso della mia esperienza è che comunque anche quando il paziente porta comunque un problema sessuale o la coppia porta un problema sessuale c'è sempre un aspetto relazionale al quale dobbiamo dare spazio e dobbiamo dare importanza, quindi è utile imparare a gestire anche determinate situazioni, quindi lavorare anche sull'aspetto relazionale, poi a volte potrebbe non esserci bisogno, però certo è che è importante, quindi ho avuto anche una formazione a livello di coppia, quindi su come gestire le coppie, infatti dall'aspetto della sessuologia sono arrivata anche ad occuparmi di coppie, quindi mi sono un po' formata diciamo a 360 gradi per questo aspetto. Oggi ci occuperemo appunto della domanda sessuologica, cioè quando il paziente arriva e porta un disturbo sessuale, cioè porta la richiesta di un disturbo sessuale, quindi un po' come possiamo muoverci, quello che è utile andare ad indagare per vedere se effettivamente ci conviene lavorare sul disturbo sessuale che ci porta il paziente oppure vedere un po' nel globale che cosa accade all'interno di questa coppia e perché la coppia arriva portando il disturbo sessuale, la coppia o il singolo. Per quanto riguarda l'intervento oggi accenerò poco perché la settimana scorsa il mio collega ha fatto l'incontro sempre sull'intervento, però acceneremo qualcosa rispetto a quello che è anche l'intervento. Allora io passerei, visto che ho diverse slide, andiamo oltre e iniziamo. Un breve cenno a quello che è la, se avete delle domande potete scrivere in chat che eventualmente Valeria o me le dici te perché io qui non le vedo, che alla fine le rispondiamo tutte insieme. Lasciamo il tempo. C'era una prima piccola richiesta dal punto di vista tecnico che c'era qualcuno di loro che ti sente un po' a volume basso, però magari ho chiesto loro un attimo di verificare il volume del loro audio perché ti sento bene Sofia, ti sento bene. Ti senti bene? Buono, quindi ok. In caso metto le cuffiette, io ce l'ho tutto alto il volume, quindi in caso ecco metto le cuffiette. Se il problema persiste mi fanno sapere, grazie. Ok, va bene. Allora vediamo un attimo quello che è, diciamo, quello che cosa rappresenta, una piccola introduzione, che cosa rappresenta la sessualità nella nell'individuo, no? Quindi vediamo che la sessualità ha comunque un ruolo fondamentale nel benessere di un individuo. Quindi un disagio in quest'area ha come conseguenza lo scaturire di emozioni sgradevoli come ansia, depressione e quindi di conseguenza arrivare a quello che può essere una svalutazione, una svalutazione del sé. Vediamo che la sessualità è una componente importante anche della coppia perché viene vista come espressione di cura e di attenzione nei confronti dell'altro e anche come consolidamento del rapporto intimo. E per quanto riguarda la sessualità dobbiamo sempre tenere in considerazione quello che possono essere i condizionamenti sociali, culturali e religiosi che sono importantissimi rispetto a quello che è quest'area. Infatti dovremmo sempre tenere in considerazione anche questi aspetti soprattutto quando quando facciamo i primi colloqui. Dà quindi importanza agli aspetti relazionali e psicofisici non solo all'aspetto riproduttivo. Quindi è un complesso universo nel quale ruotano intricati meccanismi vascolari, neurologici, ormonali e psicologici. Quindi possiamo vedere che la sessualità viene vista come indice di benessere generale. Quindi abbiamo una salute vascolare dal punto di vista endocrinico, neurologico, immunologico, oncologico, sistemico, psichiatrico, ambientale. Quindi va a toccare le varie aree e di conseguenza anche di indice di malessere. Infatti possiamo vedere che le cause delle disfunzioni sessuali sono sia organiche, iatrogene, psicologiche e intrapsichiche. Le cause possono essere anche la contraccezione, la menopausa, le terapie farmacologiche, diabete, arteriosclerosi e anche altri problemi adolescenziali. Vediamo che l'interesse per la sessualità nell'antichità era prevalentemente, diciamo, come dire, si confondeva un po' tra magia, stregoneria e religione. Quindi veniva gestita soprattutto dalla classe sacerdotale. Successivamente c'è stato verso la metà dell'Ottocento un interesse rispetto alla sessuologia scientifica e quindi si avvicina un po' dalle concezioni filosofiche e religiose e diventa quindi oggetto di studio, non solo della medicina ma anche della psicologia. Circa nel dopoguerra si avvicina anche alla ricerca e alla clinica attraverso gli studi della fisiologia e della risposta sessuale. Famosissimi sono quelli di Master e Johnson. Non so se qualcuno già sa qualcosa rispetto a questo. Allora, la salute sessuale. Vediamo come cambia anche la definizione della salute sessuale nel corso del tempo. Nel 1975 l'OMS definiva la salute sessuale come risultato dell'integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettivi e sociali dell'essere sessuato, che consentono la valorizzazione della personalità, della comunicazione e dell'amore. Successivamente vediamo come questo cambia. Quindi la salute sessuale viene vista come uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale legato alla sessualità e non è assenza di malattia, disfunzione o infermità. Quindi vediamo proprio come il concetto di salute sessuale è un po' come legato alla salute viene modificato nel corso del tempo. Quindi richiede la salute sessuale un approccio positivo rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali e la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere quindi da coercizioni, discriminazione e violenza. E affinché la salute sessuale quindi venga raggiunta e mantenuta, i diritti sessuali di tutti devono essere rispettati, protetti e soddisfatti. Qui vediamo la prima ricerca statistica in campo sessuale è il rapporto Kinsey che è frutto di 18.000 interviste che venne fatta per indagare l'attività sessuale umana. Master e Johnson che sono i nostri diciamo pionieri di quello che sono stati gli studi sessuali sono quelli che hanno affrontato invece gli studi sessuali rispetto alla fisiologia, cioè che cosa accade proprio dal punto di vista fisico e fisiologico durante il rapporto sessuale. Poi se siete curiosi ci sono i loro manuali che qui potete vedere, ne ho fotografato uno, dove queste ricerche vengono descritte in modo molto dettagliato, ossia anche i risultati che la modalità di gestione della ricerca. In Italia ci sono stati degli autori che hanno studiato quello che era la sessualità proprio degli italiani e i risultati di una ricerca sono stati condotti con interviste e colloqui su un campione di circa 7.000 soggetti da 18-70 anni. È emerso che la sessualità è una pratica universalmente accessibile, ha un ruolo importante nel benessere dell'individuo, che l'evoluzione e la modernizzazione della cultura sessuale anche grazie ai social. C'è un aumento di persone che si masturba, la verginità viene persa prima dei 16 anni, adesso io abbasserei anche un po' più l'età perché già questa ricerca insomma è un po' più datata. E c'è l'aumento dei rapporti sessuali dopo i 50 anni, cioè viene data anche un'importanza rispetto alla sessualità anche nell'età avanzata. Vediamo un po' di cenni di epidemiologia, da uno studio sulle attitudini e comportamenti sessuali emerge che l'eagulazione precoce, la stessa disfunzione rettere negli uomini mentre lo scarso interesse e l'olingotemia nelle donne sono i disturbi più comuni, i disturbi diciamo per la quale l'utente chiede maggiore aiuto. Inoltre sono strettamente associate a fattori organici, psicoemotivi e relazionali dell'individuo. Alcuni ricercatori americani analizzano 52 studi rispetto alle disfunzioni sessuali e hanno evidenziato che ci sono pochi confronti rispetto alla sessualità tra le varie popolazioni e pochi studi invece sulla sessualità femminile rispetto a quella maschile e questo possiamo un po' pensare che sia dovuto anche al fatto che, come dire, anche a una questione di ruoli, no? Su quello che accade, no? Anche nel corso del tempo, quindi la donna è quella che, diciamo, è quella che in passato chiedeva meno aiuto rispetto alla sessualità, non era un problema se la donna non raggiungeva l'orgasmo, quindi c'è tutta una storia anche culturale dietro a questo. Come avevamo detto, lo studio più ampio che fino ad oggi è stato disponibile è stato condotto su un campione di soggetti di una popolazione degli Stati Uniti tra 18 e 59 anni e vede appunto che i maggiori disturbi sono quelli, ecco vedete qui, il disturbo sessuale coattivo nelle femmine, il 27% di eiaculazione precoce nei maschi. Sono i disturbi più, diciamo, quelli più diffusi. Lo studio, è interessante questa cosa, uno studio dice che dei fattori predittivi indica che in base all'educazione scolastica ricevuta le donne con un'educazione superiore hanno circa la metà di rischio di avere un desiderio sessuale ridotto e difficoltà organico, dolore sessuale e ansia sessuale. Quindi è molto interessante questo e ci dà anche indicazione su quello che è anche la richiesta. Nel corso degli anni di esperienza che ho avuto, quando arrivano soggetti che portano comunque un disturbo sessuale, una delle prime cose che viene fatta a livello di intervento è proprio quello di educazione sessuale, perché quello che si nota è la scarsa conoscenza di quello che è il proprio corpo, di quello che è la, come dire, di come funziona il proprio corpo, di come è fatto il proprio corpo. Quindi è incredibile vedere come persone che comunque sono adulte hanno mancanza rispetto a questa conoscenza. Vuoi perché magari non è stato mai fatto durante lo sviluppo né dai genitori né dalle istituzioni scolastiche per diverse difficoltà, però comunque arrivano a una certa età che non hanno conoscenza di quello che è il proprio corpo, di quello che è il proprio organo sessuale e di come questo funzioni. Quindi è un aspetto molto importante che utilizziamo proprio come, come dire, quello di conoscenza. Cioè se io scrivo con la mia mano, so come funziona la mano, so come tengo la penna e so in che modo mi è utile tenere la penna. Questo mi dà la, come dire, la conoscenza di poter scrivere meglio proprio perché so come è fatta la mia mano. Quindi la conoscenza del proprio corpo è uno dei primi interventi che spesso utilizziamo nel disturbo sessuale. Ora vediamo che cos'è il disturbo sessuale. Quindi viene vista come una manifestazione cognitiva di pensieri, di emozioni e comportamenti che è considerata sgradevole. Ora questo aspetto è assolutamente importantissimo, l'aspetto della sgradevolezza dal soggetto stesso, no? E che tende ad automantenersi. Perché? Ho sottolineato l'aspetto della sgradevolezza e quindi della soggettività rispetto a quello che è il, diciamo, il disturbo sessuale. Perché quello che potrebbe essere un problema per me, la stessa cosa potrebbe non esserla per qualcun altro. Quindi la sgradevolezza viene intesa come una valutazione soggettiva, proprio in termini emotivi, che fa il soggetto del suo comportamento. Quindi possiamo vedere che, ad esempio, qui c'è un esempio. Il rapporto sessuale è un modo per misurare il mio valore, no? Questo capita molto spesso, soprattutto per l'area maschile, no? Quindi questo mi dà ansia. L'ansia mi crea l'impotenza. L'impotenza mi crea una sensazione di sgradevolezza, quindi depressione, fino ad arrivare all'idea di sé che non ha abbastanza valore. Naturalmente una volta che si verifica l'insuccesso avviene quello che è la previsione stessa di un possibile fallimento, quindi a provocare emozioni di paura, di rabbia, di colpa, e dunque attivare ulteriormente il sistema simpatico. Cioè, che cosa accade? Che se io ho un'emozione di paura o di ansia, sicuramente in quel momento non ho desiderio di intimità e di sessualità. Come se io ci avessi un leone qui adesso, cioè la prima cosa che penso di fare in questo momento è c'ho paura, prendo e scappo. Non è che sto qui a dire, ah, che desiderio che c'ho, no? Quindi la stessa cosa vale per il soggetto che si mette in una situazione di intimità e pensa, adesso deve accadere questa cosa, lei deve stare bene, io dovrei sentire questo. Quindi sta in una situazione di attivazione che comporta ansia. Quindi se c'è ansia non ci può essere desiderio sessuale. Di conseguenza l'ansia va ad inibire quello che è la risposta sessuale. Quali possono essere le idee irrazionali, no? Che vanno poi ad influire anche su quello che è il disturbo sessuale, no? Qui ne vediamo alcune. Per esempio, l'efficacia di un uomo dipende dalle dimensioni del suo pene. Eiaculazione e masturbazione possono generare il nebolimento della libido. L'orgasmo vaginale è maturo, quello clitorideo no. Un rapporto riuscito deve portare i partner al raggiungimento simultaneo dell'orgasmo. Tantissime coppie arrivano con questa idea, sembra incredibile, però è così, no? Che devono provare l'orgasmo nello stesso identico momento. Se si hanno fantasie sessuali con persone del sesso diverso o dallo stesso sesso si è omosessuali. Oppure se ho fantasie con persone che non è il mio partner, la mia partner, questo vuol dire che io non la amo. I rapporti devono essere evitati nell'ultimo semestre di gravidanza o comunque dopo il parto. L'alcol è uno stimolante sessuale, esiste un periodo sicuro per evitare la gravidanza. Insomma ci sono, adesso io ne ho messe qui alcune, ci sono diverse idee razionali che possono comunque, no? Influire su quello che è la prestazione e su come l'individuo stesso vive la sessualità. Il sesso orale tra uomo e donna è indice di tendenze omosessuali. Qui vediamo un po' come il comportamento sessuale è dato da diverse aree, no? Quindi in ambito biologico, cioè dal sesso cromosomico. Quando noi nasciamo abbiamo un sesso cromosomico, no? Poi dall'ambito emozionale, cioè dalle risposte delle emozioni che abbiamo rispetto a quello che è il comportamento sessuale, che possono essere di tratto oppure apprese durante la nostra esperienza di vita. E poi c'è l'ambito cognitivo, cioè l'identità di genere, l'identità di ruolo, le aspettative che ho rispetto a ciò. Un sistema di valore e di convinzioni che si sono sempre creati durante l'arco della mia vita, l'attribuzione di significato che do e l'attribuzione di casualità. E poi c'è l'ambito motorio, cioè un repertorio di comportamenti che anche questi possono essere innati o appresi. Quindi questo comporta che quando noi andiamo a fare l'assessment dei disturbi di coloro che insomma portano in disturbo sessuale, dobbiamo affrontare le quattro aree. Quindi sia nell'aspetto biologico, vedere se ci sono state delle attirazioni, se c'è utilizzo di farmaci, se ci sono delle patologie del sistema nervoso, sia dal punto di vista emozionale, cioè c'è un'abilità di autoregolazione, di autocontrollo a livello di emozione, se ci sono condizionamenti precedenti negativi per attività, estensione o assenza della risposta, di attività sessuale indotta al partner, risposte inibitorie apprese per condizionamenti precedenti. E a livello cognitivo, cioè l'immagine di sé, del partner, della sessualità, cioè che idea c'ho io della sessualità, la vedo come un peccato, la vedo come una prestazione, quindi una dimostrazione di quello che è, come dicevamo prima, il mio valore personale, una dimostrazione di potere, o a scarse informazioni. Qual è il concetto di piacere, no? C'è la colpa, c'è perdo il controllo, violo le norme, do piacere all'altro, una definizione imprecisa di ciò che ci piace, no? E l'aspetto comportamentale, cioè una povertà di repertori sessuali e sociali, povertà di concentrazione, squilibrio fra le abilità di partner. E anche questo è una, cioè molte coppie dicono, io non riesco a lasciarmi andare perché comunque lui non sa come accarezzarmi, quello che fa mi crea disagio e non riesco a comunicarlo. Quindi molto si lavora anche sulla comunicazione di quello che mi piace. Imparo a conoscere il mio corpo, dopo che ho imparato a conoscere il mio corpo, imparo a conoscere il mio piacere, lo comunico all'altro. Quindi c'è una condivisione del mio piacere con il piacere dell'altro. Ciclo di risposta sessuale. Questo è importante perché serve appunto nella parte dell'assessment. Allora, Master e Johnson individuarono quattro fasi del ciclo di risposta sessuale. L'eccitamento, il plateau, l'orgasmo e la risoluzione. Successivamente la Kaplan aggiunse un'altra, che era quella del desiderio. Cioè, dice, prima c'è il desiderio e poi c'è l'eccitamento, il plateau, l'orgasmo e la risoluzione. Questo è importante comprendere. Ecco, qui possiamo vedere il grafico di quello che è il ciclo di risposta sessuale. Ve lo mostro perché questa parte qui ci serve per fare quello che si chiama l'assessment. Cioè, durante l'assessment noi dobbiamo cercare di capire in quale fase di queste sta il problema. Cioè, sta nella prima fase, cioè il soggetto non ha desiderio, oppure sta nella fase di mantenimento del piacere, oppure è nella fase dell'orgasmo, non riesce a raggiungere l'orgasmo, oppure è nella fase di risoluzione. Cioè, in quale fase è utile capire dove sta il problema. La domanda sessuologica, quindi possiamo definire la domanda sessuologica come un processo cognitivo-intellettivo attraverso il quale l'oggetto della domanda, cioè il sintomo o i sintomi, viene interpretato e definito e collocato nel sistema fisico, psichico e sociale che caratterizza la persona e le fornisce specificità e irreperibilità. Quindi avviene all'interno del primo colloquio e si sviluppa fino ai due o tre colloqui. Poi dopo dipende anche dagli strumenti che utilizziamo, durante il quale avviene l'assessment sessuologico attraverso l'indagine di aspetti puramente fisici e dell'altro, dinamiche relazionali e affittive comprendendone il significato che viene dato dalla persona. Quindi è importante la lettura sintomatologica all'interno del sistema del paziente e quindi considerare gli aspetti organici, intrapsichici, interpersonali, ambientali e socioculturali. Cioè noi vediamo qual è il problema e dobbiamo comunque dare un senso al problema all'interno del sistema del paziente. Quindi qui ho messo interessante la definizione della parola diagnosi che deriva dal greco, dia per mezzo, quindi la conoscenza attraverso i sintomi, gnosis e cognizione. Ok, per esempio, ho messo un esempio molto banale, tanto per comprendere quello che è. Se una donna fa un intervento di asportazione dell'utero, dal punto di vista medico questa donna potrebbe essere considerata guarita, ma in realtà dal punto di vista psicologico questa donna dovrà fare tutto un percorso di elaborazione di quello che è una parte del suo corpo che non c'è più, quindi dal punto di vista psicologico tutto quello che rappresenta l'utero. Quindi c'è una rielaborazione, quindi ci sarà un percorso da affrontare. L'oggetto quindi della domanda deve essere interpretato e definito affinché possa essergli assegnata una significatività clinica. Infatti possono esserci dei segni di natura sessuale che la valutazione interpretativa consente di attribuire anche ad altro settore. Bene, arriviamo nel clou del nostro argomento che è la domanda sessologica, cioè quello che c'è utile quando un paziente arriva e ci porta una richiesta con un disturbo sessuale la prima cosa che facciamo è vedere se il paziente arriva da solo in coppia. A volte arriva un paziente e dice io ho un problema nell'intimità con la mia compagna, con il mio compagno però arriva da solo. E quindi già questo ci dice tanto, no? Arriva da solo, perché arriva da solo? Per quale motivo il partner è assente, no? Visto che il problema è di coppia. Quindi dobbiamo andare a vedere un po' quale possono essere le motivazioni. Arrivo da sola perché penso che sia solo un mio problema, oppure il partner pensa che sia un mio problema, quindi sono io che devo risolvere e quando ho risolto allora posso tornarmi indietro. Lui lo sa o lui non lo sa? Cioè è solo per me un problema, no? Ad esempio può essere che un soggetto arriva dicendo un problema di eiaculazione precoce, però la partner magari non sa niente, viene da solo, la partner non sa niente perché per lui a un certo punto è diventato un problema. Ma è diventato un problema perché se è stato sempre così? E quindi dobbiamo andare a indagare un po' quello che è la storia, la storia della coppia, la storia della relazione, no? A volte accade che il partner o la partner non è disponibile a un percorso. E già questo ci dice tanto altro rispetto a quello che è la relazione. Solitamente quando il partner non è disponibile vediamo che c'è già un problema relazionale. e essendo l'intervento del disturbo sessuale viene fatto in coppia, diventa un po' difficile fare un intervento sul singolo se il partner non è disponibile. poi il partner non può essere disponibile perché magari si vergogna o ha dei pregiudizi verso la terapia, potrebbe essere troppo impegnato, che ne so, il mio partner lavora sempre fuori e quindi si cerca un po' magari di coinvolgere il partner cercando di trovare delle disponibilità e di fare degli appuntamenti quando anche l'altro è presente. oppure c'è proprio impossibilità di coinvolgere il partner perché magari, che ne so, il soggetto dice so appena due mesi che stiamo insieme e non me la sento di coinvolgerlo. oppure non sa del problema, non vuole, è minorenne oppure non vede il problema, dice per lui o per lei non è un problema. Nella richiesta sessuologica è importante avvalersi dell'aiuto di medici specialisti, come ad esempio ginecologi, andrologi, endocrinologi per escludere la parte medica. A volte il paziente arriva che è già stato da questi specialisti quindi ha già escluso la parte medica. Altre volte può capitare che noi siamo i primi che consulta e quindi non sa o non si immagina che ci possa essere anche un aspetto medico però è importante per il paziente e anche per noi poter escludere questo aspetto. Quindi avvaliamoci della collaborazione di questi specialisti. Ci sono delle variabili che dobbiamo tener conto rispetto alla domanda sessuologica cioè la personalità e la sessualità. Dobbiamo tenere conto se ci sono degli altri sintomi presenti oltre al problema che porta il paziente. C'è ansia, c'è depressione, come gestisce l'emotività e l'affettività e il paziente, l'aggressività, come gestisce i rapporti sociali, qual è il contesto ambientale e dove si esprime la funzione sessuale. Poi dobbiamo considerare lo stato di malattia e vissuto dell'ammalato. Cioè il paziente non sa di essere affetto da una disfunzione, non sempre chi dichiara di non riuscire a realizzare il coito o affetto da una disfunzione, potrebbero esserci diverse motivazioni. Oppure ci sono i sintomi senza malati. Esempio, ho eiaculazione precoce e mi racconto che è inutile avere una donna perché devo occuparmi dei miei genitori, cioè sposto l'attenzione su quello che è un problema diverso da quello che è il mio problema effettivo. Oppure ci sono i malati senza sintomi, cioè per carenza di informazione o per uno spostamento di conflittualità intrapsiche. Ci sono i sintomi sessuologici che sottendono disagi coniugali, relazionali e sociali. Oppure sintomi non sessuologici che vengono mascherati da effettivi disturbi sessuali. Importante è considerare il vissuto del paziente rispetto a quello che è il problema. Poi c'è un'impotenza individuale, impotenza di coppia, cioè considerare quello che sono le dinamiche relazionali in maniera da stabilire se la coppia è staurata una modalità comunicazionale, nel quale il disturbo sessuale è assunto come messaggio di ostilità o di complicità. Ho lo scopo del colloquio, qual è quindi? È quello di capire come il paziente è malato, come lo è divenuto e in quale modo questo gli assicura vantaggi secondari per arrivare a concludere quali interventi possono essere più indicati e possono modificare il suo stato di disagio. Quindi veniamo un po' a quello che dobbiamo fare nella fase di assessment, no? Dobbiamo quello che noi chiamiamo è la definizione del problema, no? Quindi da parte del paziente e del partner. Andare a valutare la salute fisica generale, al di là dell'aspetto sessuologico. Quindi se ci sono anche altri problemi, ad esempio, non so, c'è una cardiopatia o vedere, insomma, se ci sono altri problemi perché molto spesso i disturbi sessuali sono dati anche a una condizione medica, come dicevamo prima, no? Se vengono assunti dei farmaci, perché ci sono farmaci che comunque danno delle difficoltà anche a livello di intimità. Quindi capire se il farmaco che assume può avere delle conseguenze. Poi, l'importante è indagare l'educazione sessuale che c'è stata da parte della famiglia. Cioè la sessualità, com'è stata vista nella crescita di questa persona? Era un aspetto di cui si poteva parlare? Era un tabù? Nessuno mi ha detto mai niente? Non ho potuto mai imparare, non ho potuto mai parlare di sessualità con nessuno della mia famiglia? Oppure c'è stato, che ne so, tutte le informazioni che ho, le ho imparate a scuola perché c'è stato qualcuno che ce l'ha insegnato, c'è stato fatto un corso o qualcosa. Quindi tutti gli apprendimenti che ci sono rispetto a quell'area. Poi, altro ruolo importante è quello della religione. Perché questo ruolo è importante? Molto spesso ci troviamo di fronte a persone che arrivano e che dicono siamo sposati da, che ne so, tre, quattro anni e non abbiamo avuto rapporti sessuali. E molto spesso queste coppie arrivano al matrimonio che non hanno mai consumato, cioè nel senso che comunque si avvicinano al credo che per la religione non si devono avere rapporti sessuali prima del matrimonio e molto spesso questo sottende già un problema sessuale. Quindi mi racconto un po' che è un credo religioso ma in realtà mi giustifica un po' quello che è il mio evitamento. Questo non accade per tutti quelli che hanno queste credenze religiose, però molto spesso questa cosa è associata. Poi le convinzioni quindi che avevamo visto prima rispetto alla sessualità, all'orgasmo, l'uomo deve prendere iniziativa. Questa pure ha un'altra delle caratteristiche che molto spesso accade, dice ma lui non prende mai iniziativa. Dice per me è l'uomo che deve prendere iniziativa, invece può accadere anche alla donna di prendere iniziativa, però molto spesso la donna sta lì e aspetta. Convenzioni sulle distinzioni tra ruoli tra maschio e femmina, storie delle passate esperienze sessuali e soddisfazione delle esperienze sessuali. Passate anche. Poi, storie dell'attuale relazione e soddisfazione sessuale prima, quando funzionava ed ora, cioè perché la coppia o il singolo arriva adesso se questo problema c'è da un anno, da due anni e c'è stato un momento in cui la coppia o l'intimità funzionava e se sì, com'era quando funzionava? Quindi la modalità di raggiungimento dell'orgasmo, la soddisfazione relativa alla frequenza e la qualità dell'orgasmo, la necessità che l'orgasmo sia tenuto con la penetrazione oppure accettazione che può essere raggiunto anche in altro modo. Necessità di far provare piacere all'altro, masturbazione attuale, storia delle pratiche masturbatorie, soddisfazione riguardo dalla frequenza dei rapporti sessuali con il partner e se questi coincidono con il partner. Ok, poi la disponibilità dei partner ai rapporti sessuali e se no, come viene comunicata e quali reazioni del partner, cioè che cosa succede? Lui che prende iniziativa e quando lui prende iniziativa che cosa accade? Lei è disponibile o non è disponibile? sennò come questa viene comunicata. Fingono di provare piacere? Accade spessissimo. Si parla di sessualità nella coppia oppure è un argomento tabù, cioè questa coppia ha rapporti intimi ma non ne parla. Fantasie, sogni, pratiche igieniche prima o dopo, no? A volte capita che un paziente mi disse sì, mia moglie è disponibile però prima mi devo fare la doccia poi mi devo fare tutto e poi dopo lo stesso prima lei poi io cioè quindi avere un rapporto dice per me è una cosa veramente tanto impegnativa. Disagio rispetto alla propria altru nudità cioè posso mostrare la mia nudità oppure devo coprirmi o in disagio c'è qualcosa che non mi fa sentire bene nel mio corpo e quindi arriviamo la soddisfazione del proprio fisico e quello dell'altro attrazione del partner e viceversa cioè ma per me il partner è attraente oppure no cioè che cosa provo verso di lui? Periodo di astinenza se c'è stato se hanno utilizzano contraccezione di qualche genere che può essere utilizzo il preservativo magari accade che questo può essere difficoltoso per lui oppure se ci sono oppure se non ci sono metodi contraccettivi e magari uno dei due non vuole avere figli e questo comporta una difficoltà perché c'è un aumento di ansia in quel momento quindi atteggiamenti e convinzioni rispetto all'omosessualità e l'attrazione verso l'altro eventuali pratiche per eccitarsi e se condivise dal paziente e una modalità che è molto utile da per vedere quello che è il desiderio della coppia è proprio la valutazione cioè da 0 a 10 quanto è il desiderio la valutazione dell'orgasmo e dell'intensità di questo e la valutazione della propria soddisfazione sessuale e del partner ok qui vi ho messo una serie di questionari che possono essere utili per affrontare quello che è il percorso dell'assessment quello più utilizzato qua in Italia è il sesamo e poi in fondo vi ho messo una breve diciamo bibliografia rispetto a quello che è che può essere utile da insomma se volete approfittare di approfondire un po' la come dire la l'argomento ecco se siete interessati allora io sono andata abbastanza veloce quindi ci abbiamo tempo per le domande se avete domande se no vi faccio alcuni cenni su quello che potrebbe essere un ipotetico intervento ok al momento non sono arrivate domande Sofia ci sono domande no vedo ok allora spero che non ci so domande perché è tutto chiaro sono andata di corsa perché pensavo che un'ora fosse veramente poco quindi volevo dare tante informazioni però potrei dare un cenno nell'attesa che magari qualcuno è interessato e è stimolato rispetto alla domanda a quello che è l'intervento che è il modello che poi viene insegnato anche a scuola no così allora il modello che è quello che poi ha esposto la settimana scorsa il collega che ha fatto il webinar solo esclusivamente sulla terapia manzionale integrata che è quella che viene proposta dalla dalla Kaplan quindi la Kaplan ha fatto questo modello che si chiama proprio terapia manzionale integrata che è un protocollo breve e e molto come dire direttivo dove vengono appunto l'intervento è fatto con delle manzioni che vengono date ai pazienti da una settimana all'altra quindi dei compiti adesso manzioni o dei compiti che il paziente fa esegue da diciamo l'interno del percorso ora il percorso è abbastanza breve solitamente una terapia che dura dai 3 ai 6 mesi considerando che vediamo i pazienti tutte le settimane stiamo parlando proprio di un paziente che arriva che fa una richiesta con una richiesta sessuale pura cioè il problema è sessuale e basta quindi se poi dopo scopriamo che arriva la richiesta per una terapia sessuale ma ci sono altri problemi oltre a questi quindi una certa struttura di personalità o altre situazioni da affrontare ecco che poi il percorso terapeutico si si allunga quindi questo viene presentato ai pazienti una volta che viene deciso quello che è viene definito quello che è il problema e si procede per l'intervento quindi immaginiamo di avere che ne so una coppia quindi vediamo prima arriva che ne so magari lui e porta ad un problema di eiaculazione precoce chiediamo innanzitutto cerchiamo di capire se questo lui ha una compagna perché il percorso viene fatto le mansioni vengono fatte insieme e quindi cerchiamo poi di coinvolgere la compagna se è disponibile se non è disponibile dobbiamo cercare di fare un intervento solo esclusivamente sul singolo senza coinvolgere la compagna perché comunque quando capita che pazienti dicono si si la mia compagna o il mio compagno non è presente qui ma ha detto che è disponibile se devo fare delle devo collaborare ma in realtà non funziona mai perché se la compagna o il compagno non è disponibile ha già detto tanto della relazione di coppia quindi è utile non andare avanti nel percorso ma si lavora solo sull'aspetto del singolo per esempio se arriva un paziente che ha un problema di eiaculazione precoce facciamo il protocollo dell'eiaculazione precoce quindi insegniamo al paziente di cercare di capire e di avere un po' come si dice la consapevolezza di quando sta raggiungendo l'orgasmo quindi faremo solo la parte individuale se invece come dicevamo prima si prende in carico la coppia nel protocollo ci sono sempre delle manzioni che sono una parte in individuale per lei una parte in individuale per lui e una parte che i pazienti la coppia fa insieme perché c'è una parte su quello che è la conoscenza del proprio corpo l'obiettivo è un po' questo quindi conosco come sono fatto conosco come è il mio piacere poi lo condivido con l'altro e quindi il percorso di conoscenza diventa anche il percorso di conoscenza e di crescita e di conoscenza della sessualità anche attraverso l'altro per poi arrivare a una condivisione quindi un po' questo è il zunto di quello che è di quello che è il protocollo poi il protocollo viene diviso a seconda di quello che è il problema quindi c'è un intervento per quello che riguarda le io colo sempre coce un intervento se è il problema è un problema di desiderio un ulteriore intervento c'è il protocollo base è sempre lo stesso e poi le mansioni vengono più o meno adeguate a quello che è il problema che la coppia porta ok va bene ci sono domande su questo? c'è una domanda Sofia? quindi se il paziente non è il partner il partner non è disponibile se ci sono le mansioni individuali sì esattamente allora è sempre utile se il paziente arriva in individuale coinvolgere il compagno però come dicevamo prima potrebbe non essere fattibile perché o il compagno non c'è o il compagno non lo vuole sapere o il compagno non è disponibile quindi in quel caso si procedono con le mansioni individuali cioè quello che è fattibile in individuale ok allora c'è una parte che non può essere fatta solo in individuale ad esempio se arriva un un paziente che porta ad esempio un problema di eiaculazione precoce noi insegniamo quello che è il punto di inevitabilità orgasmica quindi c'è un protocollo di mansioni che lui deve fare che consiste proprio nel iniziare a masturbarsi e cercare di trovare quello che è il punto di inevitabilità orgasmica questa cosa è una cosa che lui può fare da solo fino a che i pazienti stanno proprio lì devono cercare di imparare a comprendere quant'è il tempo quindi sono lì con l'orologio ok quindi una volta che il tempo di inevitabilità orgasmica cioè la consapevolezza di inevitabilità orgasmica è raggiunta e il tempo è allungato il problema è risolto dopo bisogna vedere come questo viene viene gestito con la partner quindi il problema l'abbiamo risolto se il paziente è da solo e non ha una compagna e se quando capiterà che ci saranno occasioni si sperimenterà nella nuova modalità e se ci sarà una compagna e ci sarà un problema nel futuro torneranno insieme e si farà un intervento insieme perché comunque potrebbe essere che magari in quel momento il soggetto si trova in compagnia della propria compagna e c'ha un elemento di ansia di ansia da prestazione quindi c'è tutta una serie di aspetti relazionali che vanno comunque considerati non so se sono stata chiara Federica dimmi pure direi che non ci sono altre domande sembra di no sei stata chiarissima Sofia beh ok benissimo va bene certo è che posso aggiungere due cose come dicevo prima è importante avere un po' una conoscenza anche su quello che sono le dinamiche di coppia no è utilissimo in certi casi perché comunque quando ci troviamo di fronte a una coppia l'avere una conoscenza di quello che è la dinamica relazionale ci aiuta ancora di più a fare un intervento più consapevole ok perché comunque le dinamiche relazionali no la la sessualità esprime anche quello che è la dinamica relazionale no quindi la difficoltà lì una difficoltà relazionale che la coppia magari porta un disturbo sessuale perché lì è l'area dove la coppia può mettersi in discussione quindi noi cogliamo quello che è la loro richiesta ma dobbiamo andare a vedere quello che c'è anche sopra no che magari loro non sono ancora in grado non ne hanno consapevolezza quindi lavorare sul disturbo sessuale vuol dire anche che ne so mettere in equilibrio quello che sono i ruoli all'interno dell'intimità di questa coppia e vediamo molto spesso che il cambiamento nell'intimità comporta anche un cambiamento relazionale no quindi è come dire passo dalla porta di servizio per avere un cambiamento poi relazionale no però la coppia arriva porta a quello quindi vuol dire che lì si mette in discussione e lì è in grado di poter fare qualcosa magari non porta al problema relazionale però ecco dalla sessualità ci arriviamo Sofia una domanda io per te hai esperienza di percorsi dove magari un membro della coppia è già inserito in un percorso di psicoterapia individuale e affianca al suo percorso di psicoterapia individuale questo invece è percorso di terapia mansionale per la coppia sì esatto sì ho avuto recentemente proprio una coppia ci sono coppie che fanno già terapie individuali quindi fanno già un percorso e arrivano con una richiesta di di lavorare sul disturbo sessuale perché magari nelle loro terapie individuali hanno parlato di questo e quindi arrivano da me che entrambi no magari entrambi o solo uno hanno già in corso una terapia individuale quindi io lavoro solo esclusivamente comunque sul protocollo di terapia mansionale no anzi a volte è anche più facile perché se arriva una persona un soggetto che ha già fatto un percorso che sta in in terapia il percorso è anche più veloce no certo infatti c'è un percorso di consapevolezza alle spalle poi certo non è per sempre per tutti è così però capita che insomma il paziente che arriva sta già facendo un percorso quindi arriva comunque da me in coppia e quindi a te può anche succedere poi di fare degli invii specifici anche per un percorso individuale assolutamente sì perché se arriva qualcuno che ti porta comunque un problema sessuale poi molto spesso capita che arriva qualcuno che dice io voglio lavorare su questa cosa però poi come dicevamo prima fai il primo colloquio indaghi e vedi che c'è una certa struttura di personalità che dici beh questo è veramente no niente rispetto a tutto quello che c'è intorno e tutto quello che c'è intorno è la causa anche di quello che è il tuo problema quindi sì possiamo lavorare su questo ma dobbiamo anche affrontare tutto quello che c'è intorno se no non ci serve lavorare solo su questo se non vado a vedere tutto quello che è il sistema intorno ok quindi sì può succedere anche il contrario può succedere anche che arrivano coppie che magari sono in terapia di coppia però vogliono affrontare solo esclusivamente la parte sessuale perché magari la collega non se ne occupa allora dicono vai dalla collega che fate solo esclusivamente quella parte lì quindi può accadere anche questo e quindi un po' la terapia manzionale integrata è sostanzialmente un insieme di indicazioni step by step esattamente come affrontare sia individualmente che insieme in due la propria difficoltà e quindi immagino che possa toccare sfaccettature diverse sulla base della specificità della coppia stessa sì assolutamente sì infatti è un protocollo che è molto come dire non è rigido perché poi viene viene adeguato anche a seconda del soggetto che io ho di fronte e della coppia che io ho di fronte poi io dico sempre che comunque affrontare un po' la sessualità è importantissimo nel nostro lavoro io mi trovo mi trovo quando insegno la sessologia agli allevi alcuni che dicono ma ma tanto io questa cosa non la voglio affrontare magari perché magari non hanno interesse o perché magari hanno delle difficoltà nel dire no perché comunque non è facile parlare di sessualità ed intimità con i pazienti no ci vuole tanto esercizio anche nell'utilizzare certi termini che a volte sembra quasi di essere un po' intrusivi perché dice io devo chiedere questa cosa dell'intimità come fa che cosa accade quindi non è facile farlo quindi è importante esercitarsi qualcuno dice no no ma io questa cosa non la voglio fare perché tanto nella mia vita io mi occupo che ne so dei bambini oppure mi occupo di altro però non possiamo mai sapere che cosa ci chiedono i nostri pazienti perché magari dopo sei mesi che ci abbiamo in terapia qualcuno a un certo punto ci dicono sa dottoressa io ho un problema di cui non ho mai parlato che vorrei affrontare e porta a un problema sessuale a quel punto cioè no che noi non è che possiamo dire ah no guarda io non me ne occupo non voglio sapere niente e ti invio a perché ce l'abbiamo in carico noi quindi è importante no poter essere anche come dire formati se non altro per cercare di comprendere e raccogliere qual è la domanda poi magari ci può anche stare dici guarda qui serve questa cosa io non me ne occupo però dobbiamo essere se non altro in grado di affrontarlo no perché anche chi si occupa di bambini ci avrà prima o poi un genitore che arriva e dice dottoressa mio figlio ha tre anni e si masturba già che cosa devo fare quindi dobbiamo come dire cogliere la la richiesta e dobbiamo essere in grado di affrontare sì un po' l'idea che la sessualità sia una parte integrante della persona in tutto l'arco di vita di fatto quindi ci incappiamo necessariamente insomma esatto prima o poi arriva sempre certo grazie grazie a voi vediamo se ci sono altre curiosità o altre domande ok no ok bene bene io direi che se non ci sono altre domande possiamo possiamo concludere sì vi ringrazio ringrazio per l'invito e ringrazio le persone che hanno partecipato per l'attenzione e delle domande grazie grazie a tutti approfitto di quest'ultimo scambio di battute per di nuovo per ringraziare Sofia per la sua competenza e per il tempo che ha condiviso con noi parlando di questa cosa così importante e poi anche per ricordare a tutti quanti che il 9 novembre ci sarà il quarto incontro dove appunto ci sarà la possibilità nuovamente di conoscere la realtà di studi cognitivi la realtà appunto delle nostre scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva e comportamentale e nello specifico di conoscere un po' meglio la la sede della sede di Mestre il 9 novembre ci sarà con noi un'altra didatta della sede di Mestre che è la dottoressa Gemelli che ci introdurrà ad un mondo molto particolare quanto difficile che è quello del disturbo di personalità antisociale e al suo trattamento vi ringrazio per essere stati qui e vi saluto e spero di rivedervi anche alla prossima grazie grazie a tutti grazie grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti